in salute con marco un podcast di marco bianchi un viaggio nel corpo umano a 360 gradi tra scienza e alimentazione episodio 15 fibromialgia e polimialgia reumatica benvenuti a un nuovo appuntamento in salute con marco oggi insomma dopo aver chiacchierato con il professor dagna e quindi di immunologia anticorpi vaccini torniamo con un amico che anche lui immunologo ciao alessandro dottor tomelleri benvenuto ufficialmente ciao marco grazie mi invito sei immunologo clinico e lavori proprio nell'unità appunto diretta dal professor dagna e poi all'attivo si è anche impegnati in un dottorato presso proprio l'università vita salute al san raffaele esattamente sì cosa fai lì dentro per concluso il secondo dottorato dovrebbero essere tre in tutto quindi entriamo nell'ultimo anno e il mio progetto brevissimo si concentra diciamo sulla patogenesi di una malattia rara l'arterite gigante cellulare di cui magari dopo si parleremo diremo assolutamente qualcosina però insomma senza trattare un po' nello specifico io qualche tempo fa avevo fatto una domanda alla mia community legata proprio a quelle che sono anche le principali patologie che adesso magari leggiamo un po per moda a volte alessandro mi viene da dire un po per curiosità insomma le sentiamo molto di più comunque e tra queste anche polimialgia fibromialgia ci vengono fuori queste paroloni che però si nasconde dietro anche insomma un grande impegno da parte vostra da parte appunto dell'immunologi e vorrei trattare appunto questi argomenti con te quindi ho un bel po' di domande se però sei pronto io inizierei a bomba insomma intanto direi di partire con una cosa abbastanza semplice però dobbiamo chiarirla cioè cos'è la fibromialgia allora tema caldo la fibromialgia è una patologia innanzitutto una patologia caratterizzata da dolore cronico e generalizzato che affligge una una discreta quota diciamo di persone purtroppo sempre più riconosciuta e che ovviamente con la quale entriamo sempre più in contatto nella nostra pratica clinica praticamente qual è il il tuo identikit cioè la carta d'identità del tuo paziente tipo con appunto fibromialgia ok potenzialmente è una patologia che può coinvolgere affliggere qualsiasi persona adulta essenzialmente dai 18 anni diciamo fino a persone un pochino più anziane nella pratica clinica poi anche un po gli studi lo confermano c'è una fascia un pochino più più coinvolta che sono giovani persone tra i 20 diciamo 20 50 anni tendenzialmente donne il rapporto è abbastanza impietoso diciamo che si va da qualcuno qualche studio che parla di 4 a 1 a 9 a 1 diciamo che su 10 pazienti che vedo poi in un ambulatorio 9 sono sono donne sono giovani ragazze e che ovviamente con le quali le quali si trovano a vivere secondo me è una situazione di difficoltà che poi impatta in maniera significativa sulla loro quotidianità abbiamo anche dei numeri perché per capire questa cosa è estremamente difficile parlare di numeri perché come vedremo è una patologia complicata da definire e come puoi capire se è complicato definirlo è anche complicato classificarla e nel momento in cui è complicato classificarla anche complicato diagnosticarla diciamo che se facciamo riferimento agli studi più recenti perfidabili si parla di un 2 4 per cento della popolazione adulta però come ti dicevo se andiamo poi a concentrarci sulla fascia di età più coinvolta i numeri salgono notevolmente se va addirittura al 10 15 per cento quindi vuol dire addirittura una persona su 10 potenzialmente può essere può essere afflitta a volte anche magari sono in un periodo della sua vita e in italia c'è un buon numero immagino di pazienti adesso non chiedimi di fare i conti però direi di sì il rapporto viene confermato poi anche diciamo nella mia nella nostra pratica clinica i miei colleghi i numeri che ti ho riportato tendono a essere specchiati torniamo un attimo sui sintomi quindi un dolore cronico e diffuso però parliamone maggiormente cioè entriamo un po più nella verticalità di questa assolutamente dolore va sempre ci cita sempre per prima perché poi il primo sintomo che la paziente ti riporta si siede e classico è dottore ho dolore dappertutto ho male e vivo male per causa del dolore e quindi chiaramente questo è la un po' la il biglietto d'ingresso della paziente poi è una patologia come dicevo prima complessa sfaccettata per cui se si entra un pochino nel nella sintomatologia del paziente emergono altri disturbi tipica è la stanchezza pazienti che riportano essere molto stanchi affaticati far fatica affrontare la giornata tieni conto ripeto lo dirò spesso volentieri sono giovani donne spesso con i vari o studentessi lavoratrici mamme magari tutte e tre contemporaneamente poi magari accusi anche questi sintomi per altre cose cioè dai colpa ad altro anche esattamente soprattutto nelle prime fasi magari la paziente da colpa una brutta influenza brutta infezione però in realtà ci si rende conto che chiaramente si supera un po' la tempistica classica dell'infezione quindi si stanchezza astenicola che noi diciamo in mondo medico in gergo è astenia e tipico poi tutta la sfera diciamo più legata alla capacità di concentrazione una parte un po più mentale sono pazienti che riferiscono di avere difficoltà con la memoria con la concentrazione difficoltà anche a portare avanti attività lavorative per il fatto che non riescono tutto a ricordare le cose a concentrarsi sulle sue attività addirittura c'è un'espressione inglese che è fibro fog fog e nebbia per descrivere proprio questo nebbiamente mentale che coinvolge queste queste pazienti e poi c'è la componente su cui non mi concentro troppo che più gastrointestinale spesso pazienti che riferiscono disturbi in carri specifici l'alvo alterno cioè periodi stips alternati a periodi magari più di alvo più polide posto gonfiero adiminale difficoltà a digerire ovviamente altro elemento che poi dà fastidio alla paziente sulla quale poi chiedono che non conforto che non aiuto e infine il sonno pazienti tendenzialmente quasi siamo quasi un paradosso sono molto stanchi sono molto stanchi fanno fatica affrontare la giornata però poi si trova anche in difficoltà ad affrontare la nottata perché fanno fatica ad addormentarsi a dormire bene insomma è poco riposante poi diventa poco riposante credo la nottazione ti senti stanco poi è un circolo vizioso in cui poi è difficile difficile uscire immagino anche fare sport forse può essere difficile non lo so e questo è un grosso problema è un punto ovviamente caldo è quello che già toccato e per il fatto che poi lo sport sport inteso più come attività si 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 fa parte poi del nostro parlamentare terapeutico arriveremo a parlarne nelle terapie insomma è sì sì qualcosa di a cui ci tengo tanta attività fisica in generale alessandro una domanda nel senso che tu hai fatto insomma hai descritto un po un quadro però credo che oltre alle parole alla un'anamnesi che fai col paziente però devi anche arrivare con dei dati clinici ci saranno degli esami di laboratorio radiologici c'è qualcosa che chiedi di fare al tuo paziente alla tua paziente quando arriva ai sospetti appunto questa patologia è assolutamente sì perché innanzitutto molto facile per la posteriore di anni certo momento in cui noi sotto immunologi o reumatologi si affrontiamo affrontiamo una paziente con dolore dobbiamo escludere tutte le altre patologie caratterizzate dal dolore cronico quella un pochino più note magari artrite reumatoide artrite infiammatorie in generale o fa anche il famoso lupus che lo citi e quindi sicuramente entra in diagnosi differenziale già di per sé la clinica aiuta nella diagnosi differenziale nel orientare verso una all'altra diagnosi ovviamente gli esami di laboratorio sono a supporto così come l'imaging sono a supporto per quanto riguarda la fenomenalgia tendenzialmente tutte le possibili indagini di laboratorio risultano negative quindi quasi una diagnosi di esclusione se sicuramente gli esami vengono richiesti la paziente tendenzialmente torna e c'è quasi una un contrasto tra il fatto che la paziente sta male e il fatto che gli esami molto spesso vanno bene sono perfetti questo ancora un quasi un paradosso mi aiuta poi eventualmente a confermare la diagnosi quindi l'emocromo l'indice infiammatori tipo proteine acidativa non so se avete mai affrontato in questo no non abbiamo affrontato ma conosciamo ok tendenzialmente sono normali non sono non sono incrementati così come i famosi auto anticorpi che un immunologico adesso chiediamo ovviamente non li chiediamo a tutti non li chiediamo a caso ma questa non è per una patologia autoimmune questa non è una patologia autoimmune mi chiederai quindi immunologo è una patologia dolorosa cronica ok entra un po nel calderone delle patologie dolorose croniche in cui sono come dicevo prima le artriti altre patologie infiammatorie queste però non è una patologia infiammatoria non è una patologia autoimmune dire che cos'è molto complicato addirittura un tempo tanti medici identificavano come più un discorso tipo psicogeno psicosomatico in realtà questa etichetta è stata un po abbandonata è stata confutata ci sono studi anche abbastanza recenti che fanno vedere come sembra un problema di percezione sia a livello centrale dolore e poi anche a livello periferico c'è un problema di controllo del dolore controllo degli stimoli infatti per esempio degli studi non sono un urologo però comunque si sono degli studi di risonanza magnetica funzionale vedere che c'è proprio una un'alterazione l'alterazione della percezione centrale dello stimolo dello stimolo doloroso che poi quello che è il sintomo che poi riporta il paziente ma adesso sta andando cioè la si sente molto di più come patologia in giro chiacchierando insomma è un insieme di cose quindi non è che c'è stato un boom per qualche motivo cioè non è autoimmune e da cosa deriva però da cosa può nascere una malattia così allora quando è estremamente complicata ci sono vari vari motivi ti complico la vita oggi è un problema però ci chiamo di superarlo scherzo e ci sono vari motivi uno è chiaramente il fatto che più si parla di malattia più una malattia è nota più persone che magari vivono una situazione di disagio vivevano il sintomo si riconoscono in quella e capiscono che quello che potevano essere il sintomo i sintomi con cui conviene vivevano che magari davano che riferivano altre situazioni magari di stress o potenzialmente passeggere invece dando conto che quella che quindi parlando di più sicuramente dando lo strumento appunto anche alla gente di poter capire cosa può avere esattamente e poi come vedremo magari sicuramente è una patologia la cui il cui sviluppo viene aumentato viene favorito diciamo da alcune situazioni con cui ci troviamo sempre più con cui abbiamo sempre più a che fare per esempio la patologia che tende ad aumentare i pazienti sovrappeso o dobesi che fanno poca attività fisica ormai nel mondo moderno è sempre più difficile mantenersi in forma sempre più difficile fare l'attività fisica chiaramente la sedentarietà ma con sedentarietà intendo anche vivere troppo al lavoro seduta in scrivania aumenta poi la probabilità di sviluppare questa questa patologia e poi c'è tutta la sfera della diciamo più psicologica stati di forte stress forte ansia a volte anche proprio i veri disturbi depressivi si associano poi allo sviluppo di questa di questa patologia addirittura c'è alcuni studi che fanno vedono fanno vedere che i pazienti con freminalgia dal 20 fino addirittura al 50 70 per cento dei casi hanno una concomitante disturbo dell'area psicologica disturbo depressivo maggiore o anche un costo dell'assia importante bisogna imparare veramente a insomma ad ascoltarsi secondo me da questo punto di vista e non avere paura che rivolgersi al proprio medico che poi ti sa indirizzare appunto agli specialisti perché uno quando mai si sognerebbe di andare poi dall'immunologo per magari un po' di stanchezza quindi questo è fondamentale intanto rivolgersi proprio alla propria medico curante medico di base però poi soprattutto avere anche la persona che è capace appunto di inquadrare appunto la patologia Alessandro dimmi anche se ci sono dei farmaci poi che hanno un'efficacia appunto sulla sulla patologia oppure sì ci sono come puoi immaginare ci sono farmaci che sono stati pensati sviluppati e poi applicati in maniera specifica per freminalgia sono più farmaci nati per gestione di altre problematiche poi se visto possono avere un ruolo anche però non credo ci sia l'antifiammatorio prendiamo in casa comunemente magari cioè ci sarà qualcosa di più specifico esattamente come dicevo prima non è la matia infiammatoria ovviamente quindi l'antifiammatorio come puoi capire ha un ruolo parziale se non nullo diciamo che tra le linee guida propongono come prima linea potenzialmente se non chiaramente controindicati gli antidepressivi i ciclici la mitriptilina è il principale sono famiglie si chiamano antidepressivi poi in realtà si utilizzano una dose ben più basse e pensate più su questa condizione hanno un meccanismo poi differente in base alla dose esattamente e si è visto ovviamente state studiate stati gli studi e si è visto che riescono ad agire in maniera positiva su molte sfere toccate da questa patologia quindi sia sulla sfera del dolore della stanchezza della capacità di concentrazione si assumono più la sera quindi aiutano anche sul riposo e a dormire meglio molto importante ovviamente è fidelizzare a brutta parola la paziente per cui ci non ha senso iniziare con dosi alte che magari non tollerate danno molti effetti collaterali per partire con dosi tendenzialmente basse che vengono titolate pian piano fino ad arrivare alla dose target ovviamente non sono una porzione magica certo e non aiuto possono aiutare non curano innanzitutto possono aiutare a stare meglio e affrontare meglio in generale la patologia in sé i sintomi e soprattutto non funzionano in tutte le pazienti un po come tutti i farmaci per cui poi bisogna capire che si possono preparare la paziente poi si impostano percorsi di cura la paziente varia valutata chiaramente senza ovviamente c'è fretta tra virgolette della paziente di stare meglio però bisogna spiegare che è un percorso tendenzialmente lungo che richiede anche mesi e se non si raggiunge quello che è un po il target di risposta eventualmente sono alternative ma una domanda alessandro gli opioidi se ti dico opioidi e fibromialgia che mi dici vengono in brividi nel senso che non hanno non hanno un ruolo tendenzialmente ce n'è solo uno eventualmente che è stato studiato e che si è visto può avere qualche efficacia che è tramadolo che hanno opioide debole ma in realtà si è visto che l'efficacia è più non tanto in quanto opioide ma per un ruolo sull'inibição ri-uptake di alcuni mole con la serotonina non adrenalina per cui tendenzialmente non si usano non andrebbero usati addirittura sembra però anche qua sono studi un po preliminari che nelle pazienti di fibromialgia ci sia quasi una una disregolazione del sistema opioide endogeno per cui potrebbe avere quasi un effetto negativo tanto che qualcuno ha anche proposto di usare un'altra exone che è un antagonista opioide per la terapia della fibromialgia ovviamente poi si va a vedere la pratica clinica gli studi epidemiologici si vede come molto spesso sono in maniera sbagliata una delle prime armi sono la prima arma terapeutica utilizzate da colleghi medici che fanno una situazione di dolore opioide e se la cavano così poi in realtà il risultato se va bene è neutro se no addirittura è negativo sulla gestione dei sintomi io da ex ricercatore sono anche appassionato del farmaco biologico in generale se c'è qualcosa anche in questo ambito questo qui niente questo momento all'orizzonte c'è poco niente c'è poco niente se ti interessa l'argomento magari un'altra puntata ne facciamo quante ne vuoi e parleremo siccome per dopo affronteremo un'altra patologia in cui qualche farmaco biologico va bene lo citiamo breve insomma ma essa domanda ovviamente che devo farti d'obbligo è la dieta dieta e fibromialgia che mi dici che si mangia che si mangia allora ha un ruolo sicuramente e mi ricollego quanto detto prima l'essere sovrappeso l'essere addirittura obeso ad una vita sedentaria aumenta il rischio di sviluppare fibromialgia c'è uno studio in norvegia così visto che essere sovrappeso aumenta fino al 60% il rischio di sviluppare fibromialgia per cui la dieta come puoi capire ha un ruolo fondamentale stati fatti chiaramente in quadri studi non nessuna dieta è stata dimostrata in maniera scientifica essere francamente efficace sicuramente quello che va proposto alla paziente è quella di di seguire una dieta che le permetta chiaramente di stare in forma perdere peso se necessario o mantenersi in norma peso esattamente è sbagliato anche identificare tutti i pazienti di fibromialgia come sono appeso se una paziente sicuramente è norma peso va bene così un punto su cui concentrarsi per cui ripresa una dieta chiaramente equilibrata ipocalorica se c'è indicazione a farla va proposta alla paziente e eventualmente se ha difficoltà a seguirla si può chiedere il supporto di un esperto nutrizionista eventualmente anche qua fondamentale aderenza perdere quattro cinque chili in tre mesi e poi riacquistarli ovviamente è quasi più negativo che controproducente e invece l'agopuntura che spesso ne ho letto qualcosa in merito può avere effetti per forse alleviare i dolori non so ci sono degli studi anche qua studi su tutto studi tendenzialmente anche sull'agopuntura ci sono tendenzialmente positivi però se si vanno a vedere sono comunque tendenzialmente studi piccoli e a volte anche con forte rischio di bias per cui è una soluzione che sicuramente sta prendendo piede ha comunque qualche delle basi però insomma bisogna un pochino vedere su numeri un pochino più grandi riscontro è sicuramente una diciamo che se poi io parlo sempre in termini generali certo poi ovviamente quando quando vedi la paziente pazienti che il caso singolo trovano trovano conforto trovano risposta ad alcun puntuale ci sono per cui sicuramente non va demonizzata sicuramente va consigliato di farla incredibilmente la persona è capaci esperte e poi si sia beneficio sicuramente è un po' fuori dal mondo mio di medico immunologo però diciamo che se la paziente trova beneficio che sono io per demonizzarla e per controindicarla è bello trovare persone preparate come lo sei te nel chiacchierare appunto di argomenti che sono anche così tanto veramente letti e a volte anche poco parlati nel senso che magari appunto si sa poco o si sta sta emergendo in questo momento a volte sembra veramente che alcune patologie prendano la moda del momento però ecco hai dato molta speranza secondo me e soprattutto c'è anche la voglia di poter affrontare una patologia con un occhio diverso ci proviamo e si è quello che quello che aiuta credo il paziente quando arriva in ambulatorio da te insomma da voi e immagino siano appunto però abbastanza presenti cioè perlomeno ne vedi tante di ragazze si vedo tante paziente tanti pazienti che vengono da me lamentando dolore è un po il sintomo che più spesso porta il paziente della paziente a rivolgersi a uno specialista come me e in questa in questo enorme insieme di pazienti con sindrome dolorose croniche la fibromialgia sicuramente riveste un ruolo importante darti numeri estremamente complicato però tutte le settimane sicuramente mi trovo a affrontare pazienti fatti da fibromialgia io vorrei cambiare adesso totalmente argomento invece perché sembra simile come assonanza insomma spesso viene anche confusa appunto dal punto di vista dell'ignoranza comune proprio perché si chiacchiera si sente a soffre di polimialgia soffre di fibromialgia e invece no ci sono due cose totalmente differenti e comunque hanno probabilmente come finiscono e le persone e i medici che poi si trovano a trattare esatto e finisce qua e finisce lì perché invece che cos'è la polimialgia? innanzitutto è molto più facile parlare di numeri riguardo a polimia geromatica perché è una patologia in cui sia gli elementi clinici ma anche gli elementi di laboratorio e imaging permettono più facilmente di classificare il paziente diagnosticare il paziente come affetto da polimia geromatica i numeri tendenzialmente variano ovviamente in questa cosa si parla solamente di fascia età sopra i 50 anni non popolazione adulta in generale e c'è una sorta di gradiente nord sud tende a essere più frequenti più prevalente in popolazione scandinave molto più rara in persone di etnia africana o asiatica se centriamo sull'italia diciamo che la percentuale è circa 0-6 per cento quindi se prima parlavamo di 2-4 per cento i numeri sono un pochino più bassi e anche la differenza uomini e donne meno accentuata sempre un po' più frequentemente coinvolte donne con rapporto diciamo su 3 a 2 diciamo due terzi delle persone affette a polimia geromatica sono donne sono proprio sfortunate le donne a questo punto di vista e si avranno altre fortune sì no certo certo a livello però con reumatologi immunologi insomma abbiamo più donne che uomini più donne che entro ai nostri ambulatori ma da cosa è causata invece parliamo proprio delle cause se ci sono appunto della polimialgia e come tutte le malattie infiammatorie autoimmune non c'è la causa ovviamente ci sono vari elementi che possono contribuire allo sviluppo di questa patologia tanti di queste non sono ancora chiari però è una di quelle patologie su cui la ricerca sta facendo molto rapidamente quindi ogni giorno escono escono novità sicuramente se di base a una disregolazione del sistema immunitario in questo caso che è facilitata pare una sorta di dall'aging dall'invecchiamento del sistema immunitario si possono anche accumulare in un certo senso difetti in alcune molecole coinvolte nella risposta immunitaria come l'interlochina 6 l'interlochina 1 e sembra anche che ci sia un coinvolgimento quasi una sorta di innesco da parte di patologie infettive per esempio ci sono alcuni studi epidemiologici che fanno vedere che come la polimia geromatica tenda ad avere dei picchi in corrispondenza di picchi di alcuni episodi infettivi come la polmonita micoplasma o le infezioni al parvovirus come se queste infezioni diano l'avvio delle risposte immunitarie come essere un catalizzatore praticamente esattamente esattamente e poi ovviamente ci sono tante altre conoscenze più specifiche ma insomma diventa un po' eccessiva secondo me per i nostri ascoltatori allora parlando invece di esami da fare esami di laboratorio qua mi hai detto che c'è un quadro più chiare insomma per identificare la patologia cosa dobbiamo fare sì cosa prescrivi cosa prescrivo non esiste l'esame di laboratorio che fa diagnosi è molto importante questo non esiste il prendere i risultati e vedere un valore dire ok questo vuol dire che il paziente ha polimia geromatica questo è molto importante gli esami di laboratorio ma questo un po' vale per tutte le situazioni mediche sono fatte da un mettere insieme il dato di laboratorio col dato clinico eventualmente anche col dato imaging per cui se hai un paziente o una paziente con le caratteristiche innanzitutto epidemiologiche dicevo prima quindi tendenzialmente molto adulto sopra i 50 anni che si presenta quei sintomi di cui ti parlavo prima trovare gli esami del sangue è una tendenza ad avere l'emoglobina bassa quindi anemia piastrine alte quindi quella che dice piastrinosi o trombocidosi ma soprattutto un'elevazione degli indici infiammatori la proteina acida attiva la veste di cui parlavo prima questi elementi messi insieme sono estremamente suggestivi per la diagnosi senza dubbio anche qua però non esistono tanti corpi gli ana anca fattori ormatoide di cui spesso si sente parlare tendenzialmente sono negativi se positivi o sono positivi in maniera specifica a volte capita oppure devono orientare il clinico verso una diagnosi alternativa dipende ovviamente ma è più facile fare diagnosi però per una polimia geromatica? se ne vedi tante se vedi tanti o tante pazienti affetti alla polimia geromatica tendenzialmente il quadro clinico è molto suggestivo vedi una paziente entrare in ambulatorio già il modo in cui si muove in cui si siede in cui si alza la sedia e si alza il lettino è estremamente suggestivo quindi facile no? però se hai l'occhio clinico la diagnosi ti arriva tu ce l'hai l'occhio clinico? e se scordi svilupparlo non devi chiedere a me da quanto so sì mi dicono di sì sei molto bravo quindi fai sapere chi ti ha detto che lo ricompensiamo è il capo quindi guarda se lo dice lui vediamo è molto bisogna fare molta attenzione però ovviamente perché comunque parliamo di persone a fascia età in cui esistono tante altre patologie anche potenzialmente gravi per cui trovare magari l'anemia l'elevazione di indice di infiammazione poi non l'ho detto prima ma spesso questi pazienti hanno anche molta stanchezza tendono a perdere peso a volte hanno anche la febbricola chiaramente bisogna stare molto attenti a non sottolotare la possibile diagnosi anche solo di un tumore certo per cui è delicata è delicata sì soprattutto la fascia è delicata e chiaramente non si possono perdere diagnosi più gravi ma ci sono anche strumenti proprio per confermare poi la diagnosi eventualmente la risposta è sì l'imaging fondamentalmente non viene usato sempre perché a volte veramente il quadro clinico e di laboratorio è così suggestivo talmente palese che fare un altro profondità diagnostico porta via tempo porta via anche risorse soldi insomma soldi ma sia per il paziente ma anche per il sistema sanitario ovviamente gli esami si richiedono se c'è necessità e se poi il risultato è effettivamente di aiuto di conforto e l'esame diciamo più semplice per velocità di esecuzione per anche ripetisco costi ma anche invasività per il paziente l'ecografia l'ecografia è un esame che si fa in pochissimi minuti non è invasivo perché non sono radiazioni e anche basso costo anche per il sistema sanitario tendenzialmente con l'ecografia si fanno vedere le spalle più che altro ci sono alcuni reparti molto tipici come la borsite, la subaclome di terea, la tenosinovite, il capolungo del bicipite è quasi sempre bilaterale il coinvolgimento e diciamo che se il quadro clinico di laboratorio indirizza e ci sono questi elementi a diagnosi può essere posta esistono nei casi un pochino più dubbi soprattutto quando magari a diagnosi differenziale più complessa anche strumenti un pochino più invasivi possiamo dire uno di questi sta prendendo sempre più piede si chiama PET si nasce in campo oncologico esattamente nasce in campo oncologico esattamente però adesso si sta sempre più applicando patologia infiammatoria la PET in maniera molto semplice è un esame in cui essenzialmente si inietta non è un vero mezzo di contrasto un liquido con glucosio radimarcato il glucosio si accumula tendenzialmente nelle zone metabolicamente attive e le zone infiammate come puoi immaginare sono metabolicamente attive per cui se fai la PET con polimia geromatica le sedi in cui il tracciante si localizza poi sono quelle più infiammate le spalle spesso le anche volte anche la colonna vertebrale perché c'è la borsita interspinosa e tra l'altro è un esame che dicevo prima utile soprattutto nella diagnosi differenziale perché come dicevi tu si applica anche al campo oncologico quindi magari nei pazienti in cui il sospetto è una patologia neoplastica c'è consente anche magari di smentire una possibile diagnosi di neoplasia anche se ovviamente non tutte le neoplasie poi capitano in PET anche quando il discorso è complicato dall'altra parte permettono di fare la diagnosi e quindi è un esame che può essere utile è un esame sicuramente che non rispecchia tutte le etichette di cui parlavo prima è un esame costoso, sanitario, invasivo, prevede iniziare i mezzi di contrasto per cui va richiesto solamente in casi specifici che non bisogna abusarne ne parleremo in una prossima puntata però voglio sapere da te appunto il discorso sui farmaci intanto dedicati alla polimielgia reumatica e appunto magari anche dei farmaci biologici a questo punto poi approfondiremo appositamente doc con una puntata in cui parlerai solo di questo volentieri e allora il diciamo la colonna portante della terapia della polimielgia reumatica è il cortisone, terapia sterelea, santo cortisone, glucocorticoide come vuoi chiamare non esiste paziente con polimielgia reumatica che possa essere trattato senza il cortisone questa è una formazione forte ma è la verità certo a volte il paziente giustamente chiede non c'è un'alternativa, no, almeno all'inizio cortisone permette di spegnere immediatamente se non comunque in pochi giorni i sintomi farà stare il paziente e poi chiaramente di controllare la malattia fino a portarla in rimissione anche se non è sempre facile si parte da dosaggi non eccessivamente alti, non so, se parliamo di prednisone, l'osaggio va da 15, 25 mg, si fa tutti i giorni chiaramente e è molto importante partire da una dose corretta e ridurre la dose pian piano, molto gradualmente anche qua studi dimostrano che se si scala troppo rapidamente, si mette in un mese e si toglie il tasso di recidiva è altissimo, sono quasi quasi totale, tendenzialmente l'idea che il paziente debba stare in terapia steroidea almeno un dannetto e tieni conto che comunque hai detto recidiva vuol dire che quindi c'è la possibilità anche di superare il problema insomma? la remissione si, esiste una remissione vera e propria quindi? è l'obiettivo chiaramente un paziente su due tendenzialmente ha una ripresa di malattia però o alla riduzione del cortisone o quando il cortisone è sospeso per cui comunque un paziente su due va a remissione, un paziente su due tende a recidivare però anche i pazienti che recidivano poi eventualmente si possono essere portati in remissione magari con altri, con l'aggiunta di altre terapie quindi il cortisone si aiuta e oltre a questo cosa c'è? esistono altri farmaci, alcuni già studiati e già utilizzati altri in fase di studio questi farmaci essenzialmente cosa fanno? per me possono avere due essenzialmente ruoli o si possono mettere sia dall'inizio per poter dare la minor dosi possibile di cortisone magari questo lo fai nei pazienti o che tu vedi già che hanno maggior rischio di sviluppare effetti collaterali di cortisone per esempio il paziente già diabetico, già sovrappeso, il paziente con una stuporosi grave tu sai che cortisone devi darglielo però magari aggiungi qualcos'altro per dargliene il meno possibile per meno tempo oppure lo puoi dare all'inizio anche ai pazienti che hanno alcune stigmate che ti fanno capire che sono più la tendenza della recidiva per esempio le donne, i pazienti che sono molto infiammati oppure i pazienti che oltre a dolori alle spalle hanno anche dolore alle polsi e alle mani quindi l'artrite periferica, questi vanno un po' peggio quindi magari pensi già sin all'inizio di affrancare il cortisone o qualcos'altro oppure nei pazienti che recidivano, quando è la recidiva li rimette ancora il cortisone e poi magari è il caso di aggiungere qualcos'altro cos'è questo qualcos'altro? l'elenco non è così lungo però si sta allungando il più utilizzato ancora è il metotrexate il farmaco agisce sul metabolismo dell'acido folico è la prima linea terapeutica per l'artrite reumatoide però si è visto alcuni studi comunque randomizzati e controllati che ha un'efficacia anche nei pazienti con polimia geromatica non c'è niente con l'osteroide in questo caso quindi non ha tutti gli effetti collaterali dell'osteroide potenzialmente ne ha altri però è un ottimo farmaco altro farmaco utilizzato è la folomide e poi ci sono i farmaci biologici in particolar modo ce n'è uno che non è ancora approvato però sono usciti nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, se non sbaglio, ben due studi un gruppo recentissimo di un gruppo francese che hanno mostrato come possa essere efficace il farmaco si chiama Tocilizumab secondo me tanti ne hanno sentito parlare perché è stato valutato e ha mostrato alcune efficacia anche il trattamento delle forme gravi iperinfiammate di covid-19 però è stato applicato anche è in fase di studio anche per la polimia geromatica e penso verrà anche approvato come agisce non l'ho detto inibisce il recettore dell'interleuchina 6 l'interleuchina 6 è una citochina è una molecola coinvolta nella risposta infiammatoria la nostra cascata infiammatoria anche il professor Daniel l'ha spiegato quindi il farmaco si lega al recettore blocchi di infiammazione si lega al recettore e impedisce che l'interleuchina 6 si leghi al suo recettore e dia a valle a cascata tutti i suoi effetti infiammatori è noto che l'interleuchina 6 abbia un ruolo molto importante ha un ruolo molto importante nello sviluppo di questa patologia i pazienti con polimia geromatica hanno livelli elevati interleuchina 6 uno studio recentissimo fatto da un gruppo olandese e fa vedere che nel liquido delle borse delle borse articolari dei pazienti con polimia geromatica si viene aspirato l'interleuchina 6 è molto elevata per cui è un ruolo importante il patogenetico allora io direi che abbiamo ampiamente raccontato insomma quelle che possono essere problematiche infiammatorie e non legate a mille insomma mille nomi che ultimamente insomma frequentano il nostro web anche assolutamente hai dato una spiegazione perfetta a tutto mi hai promesso di tornare Alessandro eh sì mi hai incastrato mi hai incastrato e quindi preparati per un altro intervento dedicato proprio al farmaco biologico detto questo grazie mille Alessandro Tomelleri è stato prezioso fibromialgia e polimialgia reumatica abbiamo spiegato le vere differenze insomma è stato un piacere averti qui piacere mio e grazie ancora alla prossima in salute con Marco è una produzione Realize Networks è una produzione Realize Networks